Tadà! Ma cosa stai facendo? Te la provi, non te la togli più dalla testa. Ma vi sembra normale? Ragazzi, non me lo sento di ballare. C'ho... Ha il ciclo, no? E che problema c'è? C'è lì ne sta? Stavo scherzando. Mi ha fatto prendere una paura. Sto l'Actifless è una bomba. Si adatta il corpo e scompare. E avete visto che assorbenza? Puoi ballare per ore. Siamo troppo forti. Eh? Eh? Siamo troppo forti, eh?